Ha ufficializzato il suo passaggio in Forza Italia questa mattina al ristorante Tre Trulli di Ceglie Messapica. Il primo cittadino della città della gastronomia, Luigi Caroli, ha deciso di aderire al partito del presidente Silvio Berlusconi ed è per questo che nella cornice dello storico ristorante sui colli della città cegliese la senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al senato, ha conferito ufficialmente la tessera del partito al sindaco della città di Ceglie Messapica. A fare gli onori di casa all'inizio della conferenza il segretario cittadino di Forza Italia Luca Di Presa, il senatore Luigi Vitali, coordinatore regionale di Forza Italia e Antonio Andrisano, coordinatore provinciale del partito di Forza Italia. Abbiamo chiuso un percorso, oggi mi apro alla città, mi apro alla mia amministrazione, mi apro a tutti i consiglieri comunali che hanno fatto un percorso, un percorso lungo di otto anni e che mi hanno visto un attimino estraneo, avulso fuori da quella che era la vita politica. Mi sono dedicato e anteposto gli interessi amministrativi a quella che è la vita politica e dopo un po' di tempo, quando più o meno si arriva quasi altro che battessimo alla pensione, ho deciso di percorrere per qualche anno e cimentarmi anche nella vita politica. Ho deciso di farlo con Forza Italia perché tanti valori mi accomunano, gli equilibri interni, i rapporti con chi in questo momento dirige, gestisce Forza Italia a livello regionale e provinciale sono eccezionali e quindi tutto questo ha fatto sì che decidessi finalmente di fare questo passo e per un paio d'anni spero di poter dare quell'apporto politico che il territorio in questo momento necessita di avere. Noi siamo molto felici di poter annunciare oggi la crescita di Forza Italia che è una crescita nei fatti, anche se i si dice, i mormori dicono che esiste una campagna acquisti su Forza Italia, in realtà è Forza Italia che si giova ed è onorata di giovarsi delle migliori risorse territoriali, come il sindaco di Ceglie Messapica, Caroli, che entra nella grande famiglia di Forza Italia, cosa che ci dà molta gioia, molto entusiasmo e devo dire ci carica molto di tutto quello, ci carica di entusiasmo per tutto quello che ha dimostrato sul territorio che è in linea con le ricette di crescita e di sviluppo di Forza Italia. Forza Italia è ancora punto di riferimento in Puglia, Forza Italia è ancora attrattiva e l'adesione del sindaco Caroli per il quale ringrazio anche la mia dirigenza locale lo sta a dimostrare, ma non è l'unico elemento importante. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci saranno adesioni di altri amministratori e anche di alcuni consiglieri regionali, quindi Forza Italia si propone come partito guida del centro moderato, partito guida di questa regione e ci prepariamo anche a vincere le prossime regionali nel 2020, ma anche prima se dovesse il presidente Emiliano porre fine a questa esperienza che è stata disastrosa ha aggiunto ai dieci anni di malgoverno della giunta di centro-sinistra del presidente Vendola anche le inadempienze e le incapacità di questi tre anni del presidente Emiliano.